Apri le porte del benessere, entra allo Sly Club, 4 sale corsi, grande sala fitness, tonificazioni, danze, arti marziali e antistress. Allo Sly Club troverai oltre 30 discipline diverse. Vi chiederete che ci faccio qui? Semplice, voglio farvi conoscere meglio qui allo Sly Club un'importante innovazione nel mondo del fitness, ideale per la vostra salute fisica e mentale, vi presento il Walk in Program. Questa attività, altro non è che un'attività di gruppo su tapirulano meccanico con la guida di un istruttore e l'ausilio di musica e pesetti. L'obiettivo del Walk in Program è la tonificazione dei muscoli, abbinata ad un'attività aerobica che aiuta a bruciare grassi e ad allenare cuore e polmoni. E poi, diciamocelo, camminare aiuta anche ad eliminare il colesterolo cattivo ed aumentare quello buono. Ideale per il dimagrimento, pensate che con il Walk in Program si possono bruciare circa 400 calorie in un'ora di attività. E' consigliabile proprio a tutti, compresi anziani ed adulti. Insomma, camminando camminando troverete allo Sly Club la vostra forma. Questa è una novità assoluta a Palermo, infatti soltanto noi dello Sly Club abbiamo il privilegio di avere il Walk in Program del Fitness Project. Devi superare i test fisici nelle forze armate? Lo Sly Club propone un programma specifico per tutti gli aspiranti. Chi di voi non ha almeno una volta sentito parlare della famosa tecnica del Pilates, tanto sannata dai VIP americani per mantenere i loro corpi sempre in forma? Ebbene, il Pilates realmente è un programma fitness davvero efficace per rinforzare ed allungare i muscoli con l'arte del controllo. Ormai è una tecnica di gran moda perché i risultati derivanti da questa disciplina sono davvero evidenti. Corpi modellati per una più armoniosa figura estetica che allo stesso tempo comporta degli importanti vantaggi per la salute di tutti, compresi gli anziani. Con grande tenacia e costanza praticare il Pilates in termini pratici aiuta a rafforzare la colonna vertebrale rendendola resistente anche con l'avanzare dell'età. I muscoli coinvolti sono proprio tutti, addome, glutei, cosce e zona lombare. Allo Sly Club esteso in mille metri quadrati di benessere sono diverse le attività che proponiamo, tonificazione, arti marziali e danza. Che cosa aspettate allora? Veniteci a trovare allo Sly Club e scegliete le diverse tipologie di allenamento in base alle vostre personali esigenze. Ovviamente affidandovi al nostro personale altamente qualificato, Sly Club, dove allenamento, divertimento e convenienza si fondono in un'unica entusiasmante esperienza. Grazie a tutti.